Allora, io vi ringrazio per essere presenti a questa presentazione di questo libro, estremamente importante per la storia e per tutti i contenuti veramente importanti per quanto concerne la cultura dialettale del Comune oggi di Romanengo. Prima di tutto voglio ringraziare il Presidente Fulvio Stumpo che è sempre disponibile e ci ha dato ogni forma di aiuto e di sostegno. Devo ringraziare ancora prima l'assessore alla cultura di Romanengo Federico Neta, Valerio Ferrari e soprattutto l'autrice Francesca Eva della Noce e anche Antonia Grazia Rossi per Antonio Bonetti perché hanno contribuito in maniera importante all'organizzazione dell'evento. Dico due parole per introdurre il concetto di dialetto o anche finalità di quello che ci ha portato tutti insieme perché è stato un lavoro corale a creare una commissione corpus all'interno della DAFA e soprattutto la rilevanza. Il dialetto viene considerato come uno strumento per chi lo ama di trasmissione del sapere, di conservazione della cultura popolare e per questo motivo la commissione corpus del dialetto cremonese, nuova commissione istituita alla DAFA quest'anno che si occupa della conservazione del dialetto locale e della sua trasmissione perché non diventa una lingua morte completamente desueta, nonché dalla sua specificità, quali modi di dire, sentenze, proverbi o altro ancora, valorizzazione dei poeti, scrittori vernacolari di trasmissione della lingua dialettale, usi e costumi, arti e mestieri a rischio di intinzione, cucina locale, feste, costumi, tradizioni, ha deciso di promuovere una serie di conferenze che trattino queste tematiche, ognuna con un preciso oggetto. Sicura che questi eventi potranno interessare, se non tutti, però buona parte degli iscritti a sodalizio. per valorizzare il vernacolo, quindi la parlata locale, leggiamo un famoso pensiero di Luigi Ailman, celebre studioso del nostro dialetto in quanto cremonese adozione, comunque professore poi per anni, diciamo così ordinario e anche straordinario all'Università di Bologna, il quale sosteneva, l'importante linguista, che dialetto e lingua sono due forme parallele, due realtà equipollenti, che hanno avuto diversa fortuna, una è rimasta sul piano familiare, l'altra è passata a strumento di manifestazione del pensiero, su scala nazionale, ma il destino può diventare espressione poetica e letteraria, perché sostanzialmente ogni persona è bilingue e chi non avesse dialetto sarebbe indefinito un cittadino primo di una vera patria. Così scriveva parecchi anni fa un illustre studioso, appunto Luigi Ailman, membro autorevole del nostro sodalizio e dell'almo Università di Bologna, riguardo al nostro vernacolo, anche se dubito che oggi sia ancora così, per il fatto che fra tanti nostri giovani la conoscenza di una lingua dialettale è molto scarica e se raramente corretta. Ma tuttavia questo assurdo rimane valido nel suo principio di fondo, e infatti per le persone che hanno superato oggi una certa età, le reminiscenze dell'infanzia e della giovinezza si legano in maniera quasi indissolubile al territorio di origine, alla prima lingua, alle usanze e a tradizioni che verdurano per tutta la vita. Ne abbiamo dimostrazione nella cosiddetta saggezza popolare e nel parlamento quotidiano. Quando, al succedere gli eventi che riguardano la vita, ce ne usciamo automaticamente col proverbio ad hoc, col modo di dire pontuale e chiarificante nel nostro bel dialetto. Per questo è importante che persone come la signora Francesca della Noce mettano per iscritto la loro conoscenza, patrimonio prezioso e altrimenti fuggevole, al servizio di tutti, soprattutto dei giovani, perché non solo non si perdono e rimanga come fondamenta e radice della piccola patria. Oggi, la prima delle nostre conferenze, verrà presentato un gustoso e dilettevole e dilettevole dibretto che riguarderà la parte alta del nostro territorio, cioè il dialetto di romanengo e dintorni, con assente e ressante antichi reperti, forse dimenticati, della tradizione orale. La signora Francesca Eva della Noce Ferrari ha attuato il progetto che da tempo coltivava, pubblicità, cioè ha deciso di tramandare in uno scritto perché rimangono a memoria le conoscenze del dialetto del suo territorio, nei modi di dire, nelle filastrocche, negli novi nendi, nella sua infanzia e molto altro ancora. Il libro che si intitola I sapinti van der Alteint ha anche un appendice fotografico convenute nell'epoca. Naturalmente si è rappresentato dall'autrice insieme al figlio e che ringrazio assieme all'assessore Onita al quale lascio la parola. Grazie. Grazie, grazie per l'accoglienza, grazie per averci dato questa occasione di presentazione del nostro libro perché è un esperimento di comunità e poi mi spiegherò subito perché lo intendo in questo modo. Grazie veramente per la bellissima cornice storica, architettonica e artistica nella quale ci avete ospitato, grazie alla vostra associazione per l'impegno e per la ricerca scientifica che ha voluto mettere a disposizione della cultura dialettale e della raccolta dei dialetti del nostro territorio. Grazie a Francesca Eva per aver condiviso il suo sapere, parte del suo sapere. Anche qui poi vi dirò perché intendo dire che è parte del suo sapere. E a Valerio Ferrari per aver proposto al Comune, all'assessorato della cultura e all'ecomuseo perché sono qui in doppia veste, sono anche presidente dell'ecomuseo del territorio di Romalingo e della valle dei Navigli del territorio. Francesca Eva ha messo a disposizione parte del suo sapere perché abbiamo l'ambizione di supporre che questo libro sia il primo, non solo di Francesca Eva, ma anche il primo raccoglitore, la prima occasione di raccolta del sapere dialettale della nostra comunità. Si sta diffondendo non solo a Romalingo, anche in tutto il territorio cremonese, a Cremona, a Crema, saremo anche a Crema a presentarlo e si sta diffondendo in maniera capillare all'interno della nostra comunità. La gente lo sta richiedendo, lo dicevo prima a Valerio, tanti lo vogliono, lo stanno leggendo, lo stanno gustando e il libro è un'occasione per far riflettere i romalinghesi sul loro sapere. Francesca Eva ha messo per iscritto, aiutata da Valerio e da Damiano, i suoi figli, il suo sapere, che è sapere suo personale, della sua famiglia, del suo vissuto, ma anche di tutta una comunità. È una straordinaria testimone del tempo che ha vissuto, ce lo sta mettendo a disposizione e abbiamo l'ambizione di sottoporre ai cittadini questo bagaglio culturale, questo bagaglio di sapere e di sapienza e stimolare in loro il ricordo, far riaffiorare nella loro mente, nella loro cultura, nel loro vissuto, quello che hanno sentito e quello che usano tutti i giorni, alcuni lo usano quotidianamente, altri purtroppo come già stato detto lo stanno dimenticando, alcuni non lo sanno più e noi vogliamo riaccendere questa passione verso la nostra lingua locale, il nostro dialetto e stimolare nei cittadini la volontà di raccogliere i loro detti. Molto spesso ognuno ha i suoi detti, non sono detti solo territoriali, ma tra una persona e l'altra, tra una famiglia e l'altra, uno ha un modo di dire e l'altro l'ha modificato. Vorremmo avere l'ambizione di fare delle altre edizioni di questo libro, raccogliendo filastrocchi, detti, saperi, le cosiddette scurmagne, quindi i nomignoli che all'interno della comunità vengono dati, venivano dati, ma vengono ancora dati alle persone. Fortunatamente viviamo in una comunità non gigante, non grandissima, 3100 abitanti, ci si conosce ancora tutti e quindi ci si dà ancora bonariamente dei titoli, degli epiteti che sono ancora divertenti, sarebbe bello raccoglierli. Abbiamo anche una compagnia di teatro amatoriale, purtroppo non parla un dialetto puro, poi ci spiegherà Valerio, devo ringraziare Valerio per la sua introduzione con un ampio respiro scientifico sul dialetto di romaningolo. Questo libro non è solo una raccolta di detti, di fiabe, di filastrocche, di canzoni e anche uno studio scientifico della nostra lingua dialettale ed è questo l'importante. Anche una bellissima appendice fotografica che è una piccolissima parte delle fotografie di Amilcar e Ferrari, quante fotografie, quanti documenti sono sparsi tra i cassetti, negli armadi delle persone che purtroppo vengono disperse, sono le cose alle quali si fa poca attenzione, purtroppo quando viene a mancare qualcuno si pensa a qualcosa di visibile, oggetti in metallo prezioso, quadri, fotografie, documenti vengono, se c'è qualcuno che li raccoglie è positivo ma molto spesso vengono buttati nelle discariche, nelle piazzole ecologiche dei comuni. Con l'ecomuseo attraverso questo libro vorremmo anche suggerire alla cittadinanza la volontà di raccogliere non solo le testimonianze orali ma anche le testimonianze materiali del loro vissuto, fotografie negativi di fotografie, documenti che ritraggono la storia di una persona, di una famiglia ma anche di una comunità, le processioni, le sagre, le feste, non sono citazioni casuali, sono citazioni che poi vedrete nella concretezza nell'appendice fotografica. La trasformazione dei monumenti, della viabilità, delle case, dell'edilizia urbana che sono tutte cose molto importanti. In questi giorni a Romanengo è stato distribuito il bollettino comunale, all'interno del bollettino comunale è stata distribuita quella piantina che è il risultato di un progetto al quale ha partecipato anche Valerio Ferrari che abbiamo fatto a scuola sulla toponomastica, sulle cascine, sui campi, sulle rogge, con i loro nomi antichi. Mentre venivo qui mi hanno già chiamato due o tre cittadini perché all'interno dei loro cassetti hanno trovato documenti notarieri dell'Ottocento che citano un bar o un ristorante che non esiste più, che è in piazza e vogliono, vogliono, in questo caso sono persone con sensibilità, quindi conservano e mantengono la documentazione presso di sé, però vorrebbero condividerla con il comune, con la biblioteca comunale, con l'archivio storico del comune. Ecco, questo libro che oggi presentiamo è materialmente la testimonianza di tutto quello che ho detto, è l'inizio di un progetto di comunità, di un archivio diffuso di comunità nel quale raccogliere le testimonianze, perché una volta avvenuti meno i testimoni viventi, tutte queste cose si perdono. Oggi abbiamo due tipi di testimoni, un testimonio vivente e un testimone cartaceo. Ecco, quello non lo perderemo più perché è stata fatta una pubblicazione, è stata diffusa grazie alla vostra associazione, grazie alle realtà che ci invitano e ci inviteranno a presentare il libro. Ecco, vogliamo iniziare questa buona pratica della memoria. Quindi ancora grazie per l'ospitalità e passo ovviamente la parola alla protagonista e a Valerio che è una figura inestimabile per il nostro territorio, è troppo impegnato perché tutti gli chiedono un impegno, vieni di qui, vieni di là, ma è veramente una figura importantissima per noi, perché è uno studioso, è uno studioso che lavora scientificamente per il suo territorio e dona il suo sapere del suo territorio e questo è un bel esperimento anche perché si è messo a disposizione lui insieme a sua madre e ha donato alla nostra comunità questo libro. Quindi veramente grazie per l'ospitalità e per l'occasione che ci avete donato. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 come mi venivano e ho visto che man mano che scrivevo ne arrivavano a Iosa allora ha messo tutto, ma una confusione dopo lui ha fatto tutto il resto ha fatto un lavoraccio a dividerli i proverbi, i modi di dire, i dovinelli, le diridere lui ha suddiviso tutto perfettamente e ha fatto saltare fuori una cosetta insomma che a me piace non so cosa dire altro grazie grazie no perché poi aveva già detto e tanto e man mano ripassandoli diceva ma questo ce l'abbiamo le belle mediche sto che è e allora bisognava andare a riprenderli tutti quanti dal capo finchè non sono stati ordinati e quindi dopo allora si poteva capire perché col computer adesso si riescono a fare a tante ma ci sentiamo siamo in famiglia ecco quindi il lavoro è stato quello di cercare di selezionare perché ce n'erano molti di più e ce n'erano molti anche comuni che sono condivisi da tante altre realtà poi è difficile in realtà per i proverbi soprattutto riuscire a discriminare con una certa esattezza i proverbi che siano ridotti o che siano proprio di un territorio ristretto con dei confini definiti i proverbi anche in modo di dire magari di più perché nascono proprio come diceva Federico prima nascono anche in ambiente familiare e poi si possono propagare in una società un pochino più grande ma di solito rimangono insomma in un territorio abbastanza ridotto i proverbi invece si sa sono anche diffusi in tutta Italia magari non vengono enunciati con le stesse parole ma il concetto di fondo rimane quello però sono declinati ogni volta da ciascuna comunità a seconda delle sue necessità a seconda dei suoi confronti con la realtà quotidiana perché i proverbi in sostanza sono quelli i proverbi sono delle piccole, delle espressioni molto secche, delle frasi brevi che devono essere facilmente mandate a mente perché devono essere ricordate facilmente e anche ripetute nelle occasioni giuste quindi a situazione particolare corrisponde proverbi particolari e i proverbi sono in effetti quello che si dice il concentrato della saggezza popolare in realtà si scoprono anche dei proverbi che proprio saggi saggi non sono hanno anche degli elementi di ingenuità ce ne sono altri che si contraddicono addirittura ma questo dipende dal fatto che i proverbi si sono accumulati nel tempo e quindi a seconda delle varie situazioni, a seconda delle varie epoche e quindi anche delle realtà che mutano nel tempo due proverbi sono nati in situazioni diverse noi adesso li accostiamo in un momento preciso e magari cozzano tra di loro ma in realtà hanno una storia ciascuna ha una storia ci sono storie molto antiche anche di alcuni proverbi e così anche dei modi di dire si possono fare tanti esempi diceva prima Adriano che l'italiano e il dialetto non sono una cosa dipendente dall'altra il dialetto non è una corruzione o un sottoprodotto dell'italiano è un'altra lingua sono due lingue diverse parallele nascono entrambi dal latino volgare e quindi hanno ciascuno una propria autonomia quindi non si deve pensare come è stato pensato poi negli ultimi cent'anni da quando se qualcuno conosce i vocabolari dialettali del secolo XIX che nelle introduzioni dicono sempre si è stabilito, si è provveduto a compilare questo vocabolario sostanzialmente per aiutare i parlanti in dialetto i dialettofoni sostanzialmente a trovare i termini corrispondenti in italiano per poter leggere i documenti per poter scrivere lettere o comunque cose ufficiali oggi si fa il contrario però i dizionari quando vengono fatti sono fatti per insegnare a chi parla solo italiano quali sono i termini dialettali ma da quel momento lì ha cominciato il dialetto a declinare sostanzialmente è vero che già Ludovico il Moro aveva introdotto il Fiorentino quindi siamo alla fine del Quattrocento e all'inizio del Cinquecento il Fiorentino nella Canceleria Ducale Milanese è vero che Carlo Borromeo San Carlo Borromeo aveva introdotto l'italiano nelle scuole della diocese di Milano cioè la diocese più grande del mondo come tutti sanno e quindi anche lì siamo già nel Cinquecento ha cominciato a declinare un po' il dialetto però sappiamo benissimo che il dialetto fino a qualche decennio fa e ancora oggi nei paesi è la lingua ufficiale sostanzialmente delle persone che hanno una certa età si comunica ancora con il dialetto si coagulano pensieri e situazioni con una frase dialettale che di solito è molto più esplicita è molto più concentrata e più colorita spesso dell'italiano quindi ha questa capacità questa potenzialità il fatto che poi derivi direttamente dal latino il nostro dialetto lo si vede in alcuni termini quindi anche il lessico serve i vocabolari servono i vocabolari dialettali servono non tanto per tenere viva una lingua che se non la si parla viva non sarà mai però servono e anche operazioni come quella che è stata fatta qui con la raccolta di proverbi o di modi di dire eccetera quindi oltre ad essere ad aver messo sulla carta un ricordo che rimane ormai consolidato e fisso sulla carta serve anche a parere mio ad abituare il lettore anche soltanto che parla italiano ad una consuetudine passiva col dialetto è importante che lo capisca non è non si può pretendere che lo si parli io quando ero bambino andavo in cascina dai nonni e cercavo di parlare in dialetto con gli amichetti della cascina per non far vedere che arrivavo dalla città e mi dicevano tutti ah no no non parlare in dialetto devi parlare in italiano perché sennò poi ti rovini errore gigantesco io sono felicissimo che invece in casa mia non mi abbiano mai vietato di parlare in dialetto e io abbia potuto continuare in questa maniera ecco vi dicevo quindi anche questa abitudine a leggere e capire il dialetto anche se non lo si parla è già è già uno strumento ulteriore per tenere viva in qualche modo una lingua dicevo mi sono occupato negli anni passati anche di etimologie dei termini dialettali e da lì salta fuori effettivamente il legame diretto con il latino ci sono molte molte termini molte voci che non sono comuni all'italiano perché vabbè ce ne sono tante che in italiano poi hanno la forma dialettale ed arrivano dal latino noi lì siamo tutti a posti siamo pacifici ce ne sono molti altri invece che in italiano non esistono ma esistono in dialetto ma si vede che hanno una radice latina non so per esempio l'Arla l'Arla forse nessuno più sa che cosa è l'Arla era una specie di gabbione fatto di travi dove si infilavano i bovini o i cavalli malati per poterli tenere fermi e poterli curare Arla in italiano non esiste viene dal latino arula che vuol dire purcile vuol dire recinto non so la colubbia in cremonese la colubbia in romano inghese che è l'acqua di sciacquo oppure anche il cibo che si dava ai maiali deriva da colubies in italiano non esiste deriva direttamente dal latino e continua ancora oggi quindi dopo duemila anni c'è ancora dicevo a Romoneg una cosa interessantissima secondo me che andrebbe coltivata insomma bisogna studiarle molte queste cose i miei i miei nonni quando eravamo bambini o anche più grandicelli quando andavamo in giro con le biciclette o addirittura già in macchina in automobile ci raccomandavano te ne resta cunt andare mia a pericula quel te ne rest quel andare mia sono imperativi futuri che in italiano non ci sono in latino c'erano e il dialetto ce li ha ancora questa è una cosa che secondo me interessantissima cioè l'imperativo futuro è una raccomandazione o un'imposizione che tu devi svolgere in futuro in italiano non c'è un'espressione del genere cercatela e vedrete che non la troverete quindi vedete che ha una sua dignità una sua autonomia il dialetto e il dialetto di romolingo è un particolare momento di questo dialetto certo non è il dialetto cremonese ormai si sa benissimo che dalle lingue lombardi come si dicevano nell'ottocento e ancora anche nel novecento si è passati ad altre terminologie ed oggi è ormai stabilito e consolidato il fatto che in Lombardia i dialetti siano almeno divisi in due gruppi l'abda l'abda superiore quantomeno fa da confine tra il dialetto occidentale che è il milanese per esotico comasco eccetera e un pezzo di ludigiano e i dialetti orientali che sono il bergamasco e il bresciano e il cremasco anche se il bergamasco poi scende fino all'alto mantovano e lungo l'olio fino all'acqua negra sul chiese saltando chissà perché cambia sull'olio dopo si parla invece un dialetto tra il cremonese e il mantovano nonostante sia un borgo franco di Brescia fondato quindi dai bresciani per esempio in provincia di Cremona c'è Ostiano e Volongo che sono in provincia di Cremona ma sono di tradizione assolutamente bresciana il loro dialetto è bresciano puro quindi ecco vedete che ci sono delle distinzioni che vanno tenute presenti ecco il dialetto romaninghese appartiene sicuramente ai dialetti orientali al gruppo dei dialetti orientali ed è una sorta di non so come dire di transizione posizione tra il dialetto cremasco che è abbastanza ben connotato e il son cinese che invece non è connotatissimo perché ha già molti aspetti bresciani per esempio hanno la cosiddetta armonia vocalica loro molto forte per cui dicono non so il libretto e al diminutivo fa il libriti il pursel il pursili che è già bresciano che a romaninggo non esiste una cosa del genere e il romaninghese quindi un po' appartiene un po' condivide qualche elemento del cremasco un po' del bergamasco un po' del son cinese e pochino 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 anche del cremonese nonostante sia il dialetto di cremono da castellone no castellone è un dialetto castellonese puro e loro dicono el fuc el fiul che è tutta un'altra cosa tutta un'altra cosa ecco e quindi la quale dell'arola e la biga non è romana la biga si però si dice anche l'italiano biga l'italiano la biga si ecco quindi quello che abbiamo tentato di fare è prima di inquadrare un po' questo dialetto io non sono un dialettologo quindi non potevo spingermi più in là delle poche cose che sono abbastanza conosciute abbastanza note però valeva la pena comunque metterle su carta per far capire quali sono quali possono essere i passaggi e come è connotato questo dialetto siamo ormai quasi al confine di provincia perché siamo quasi in provincia di Bergamo c'è soltanto Casaletto di sopra che fa confine poi c'è Romanenko quindi anche per il corpus dei dialetti della DAFA probabilmente sia questa occasione è uno dei dialetti più settentrionali che è stato racconto fino adesso ecco e voglio dire un'altra cosa ma adesso mi è sfuggita niente se volete sentire qualche nel dialetto romanenghese qualche espressione no perché ci sono anche tra i proverbi io voglio dire ci sono tante tante categorie di proverbi che qui non sono state non sono state categorizzate soltanto per il fatto che erano già una scelta e quindi non volevano nessuna pretesa di di arrivare a colmare questo vuoto anche perché per quanto riguarda i modi di dire sarà impossibile i modi di dire nascono e spariscono proprio magari con il lessico familiare a volte quindi sarà impossibile raccogliere i proverbi si possono anche anche catalogare ci sono per esempio i proverbi che io chiamo i proverbi pro memoria servivano ai contadini per ricordarsi che da una certa data o comunque lì in giro bisognava fare certe operazioni e di solito il richiamo qual era il richiamo calendariale è quello ai santi ovviamente e quindi a San Michele la merenda la va in sede per esempio perché si accorgiano le giornate e si salta la merenda perché si cena molto prima poi si va a letto presto una volta non si stava in piedi fino a mezzanotte a leggere a letto quindi questo succede a San Mubu tu ti distrassi di Sendebu questo ovviamente in dialetto romana inglese la crema sarà a San Mubon tu ti distrassi di Sendebu ovviamente a San Rocco la Nuzela la Isoda il Broc quindi se volevano raccogliere le nocciole le nocciole da far seccare poi da conservare per l'inverno in solai per poter poi utilizzarle durante l'inverno bisognava sapere che a San Rocco era già tempo e quindi bisognava tenere d'occhio i noccioli perché già altri magari potevano andare a raccoglierseli a Sant'Agnese la Luzerta della SES questa qui era un auspicio per la verità perché a Sant'Agnese che è il 21 di gennaio di Luzerta la Luzerta Sant'Agnese con la Luzerta per la SES effettivamente che comunque rimane la stessa è difficile vedere correre una Luzerta al 21 di gennaio però era un auspicio di prossima prossimità tanto meno della primavera a Sant'Agnese il fasole è della Tana quindi è la data ultima in cui si consiglia di seminare i fagioli per poterli avere almeno 8 ombre altrimenti se si seminano più tardi è inutile seminarli perché non arriveranno mai a maturazione arrivano i freddi e quindi sarebbe un'operazione stupida a Santa Maddalena la nusola è piena anche qui attenti alle noci perché a quell'epoca è tempo di raccoglierle e così via insomma questo è un assaggio e invece tra i modi di dire ce ne sono di comuni a tutti quanti per esempio è il gaffa alla figliura del ciclulatero si dice ovunque questa cosa viene una cosa interessante viene da da un fatto che è successo a Torino nell'ottocento padre del cioccolato e dei cionduiotti ancora oggi quindi c'erano i cioccolatai e c'era uno che si era arricchito così tanto di quelli cioccolatai che andava in giro con una carrozza con un tiro a quattro il re Carlo Felice si è scocciatissimo perché l'ha fatto convocare e gli ha detto che siccome lui aveva il tiro a quattro che lui andare in giro per Torino con un tiro a quattro non voleva fare la figura del cioccolatario e quindi le resta il gaffa alla figura del ciclulatero ecco come anche ighe la cua del paia quando uno non è ha paura non è a posto ha la coscienza eccetera e ha la coda di paglia si dice anche in italiano la coda di paglia perché nel medioevo ai malfattori ai ladri eccetera si attaccava una coda di paglia e gli si faceva girare in mezzo al pubblico per sotto il pubblico ludibrio si dice con il rischio che qualcuno gli attaccasse fuoco alla coda di paglia quindi chi ha la coda di paglia deve stare all'occhio perché potrebbe capitare anche qualcosa di peggio queste cose sono comuni un po' a tutti ma il bagulù dell'Öster anche quello lì il bagulù dell'Öster è più difficile da spiegare bisogna bisogna leggerlo quello lì il bagulù allora quando qualcuno chiacchia molto e si appizzica a qualche problema e non si stacca più da noi si dice che è il bagulù dell'Öster eh ce ne sono ce ne sono sempre di più poi adesso siamo in tanti pensionati sono sempre di più i bagulù dell'Öster perché si dice così? perché il bagul forse si sa che è la morchia della pipa si dice quando la morchia del tabacco della pipa si chiama il bagul eh che è appiccicaticcio il lucido delle scarpe in tempi andati veniva fatto con non il bagulù della pipa ma con la morchia di altre sostanze che venivano bruciate e carbonizzate e anche proprio con il carbone o con il fumo per dare il colore al lucido che era solo nero una volta quindi quella quella morchia lì del lucido era una cosa appiccicaticcia come la pezza che non si poteva più staccare il bagulù dell'Öster è quello che proprio non si riesce a staccare e che ecco quindi sono tutte cose che è è curioso è interessante secondo me e lui le ha spiegate molto bene vabbè io ho fatto quel lavoro lì di tradurle con una traduzione ma è il più possibile letterale in maniera che chi non conosce il dialetto può leggere la traduzione quasi parola per parola del dialetto e poi mi è toccato fare un commento perché vabbè forse per la gente che usa ancora il dialetto sarà complicato capire cosa voglia dire anche se per molti modi di dire e molti proverbi mai si è persa questa capacità di di capire cosa vogliono dire si dice per esempio il romanengo le sgiung come betta o so sgiung come betta sono si dice anche chi era questa Elisabetta nessuno più lo sa non è betta ma nessuno più sa chi è betta secondo noi forse era tale Elisabetta che era sempre incinta si dice un po' dappertutto si dice dappertutto dappertutto ecco vabbè è è una cosa che si deve leggere di raccontarla perché perché si perderebbero proprio il gusto di capire se sgiung come betta si dice quando uno mangia mangia tanto mangia tanto si ma infatti si dice per quello ma perché se sgiung come betta eh perché si vede vede Elisabetta questa è una cosa che si è persa non lo sappiamo più di decodificare nel modo giusto quindi questa può essere un'ipotesi ma l'ipotesi può essere assolutamente fuori si ecco e così via insomma ecco anche si oppure il su Naldò si balla la lama e si trova come luce le campane perché non è facile spiegarlo si possono fare delle ipotesi non abbiamo più i lupi quasi quasi non abbiamo più neanche le campane perché ormai c'è anche chi denuncia i parroci che suonano troppo le campane quindi perché si trova come luffo le campane boh l'ipotesi mia era che un tempo quando c'erano i lupi e nel cremasco eh ce n'erano perché abbiamo e anche negli statuti di crema abbiamo un un una rubrica proprio dei consegnanti bus lupis perché i lupi cattolati dovevano essere consegnati in piazza del Duomo a crema che eh ricevevano la la taglia e quando c'erano i lupi probabilmente c'erano le campane per avvertire che c'erano i lupi in giro e quindi di stare attenti quindi non si intendevano i lupi e le campane sono due nemizi eh però è un'ipotesi anche questa se tu calcoli che però per esempio il Zufo è come i cani come i cani sono canidi tutte le volte che suonano le campane Ula polarsi anche polarsi polarsi e quindi e quindi lupo scappa se sente le campane polarsi infatti e quindi sembra uno di dolore anche anche quello esatto e dopo se ne sono tanti 600 circa se ne sono di molto molto per esempio mi viene in mente per esempio donne, passere e ocche è tante anche in quante epoche donne, passere e ocche sono tante anche quando sono poche perché fanno un gran macello perché o perché chiacchierano o perché starnaggiano e quindi sono tante anche quando sono poche ecco esatto e fate il cincelio ecco ecco quando uno è molto magro si dirà probabilmente anche a Cremona ma anche a Cremona si dice è il gai in dita è il più per comprare braghe ecco e va bene insomma sono comunque bravissima la tua mamma prima di tutto non mi vuole incredibile è comunque molto bello perché in effetti quello che mi piace per esempio del garetto per il modo di dire dei progetti che succintamente molto succintamente però ti fanno capire tutto un mondo un modo di dire lungo cioè tu dovresti spiegare in italiano devi stare a usare non so quante parole invece quello è come una freccia che va tritta e c'entra subito il diversario anche con sattività è come il latino è come il latino è così effettivamente è questo l'ingatto no? fanno fanno posso fare una domanda a proposito a letto volevo chiederti una cosa noi siamo tutti di una certa generazione anni 50 eppure noi il dialetto l'abbiamo conosciuto che ancora lo prendiamo al nord e al sud soprattutto quello della nostra generazione per cui con le problemi dei soglosse cioè il medione del nord il dialetto del nord il dialetto del sud del sud della Calabria del nord per esempio la Cremona io per me ci vivo da 40 anni il dialetto per necessità come mi dici tu ho dovuto imparare a capirlo e non a parlare perché per me per un bizantino avere la U celtica è praticamente è praticamente impossibile no? c'è l'altro è impossibile è impossibile avere la U celtica è impossibile non ci riuscirò mai quindi è vero che questo problema qui si pone in due mondi totalmente diversi io che vivo diciamo in due mondi diversi la mia casa ormai c'è qui a Cremona però spesso volentieri vanno a cuore in Calabria ho a che fare con i miei nipoti e vedo che totalmente il dialetto che io parlo loro non lo parlano più al limite faccio un esempio dicono a fagiola per dire i fagioni ma è una cosa italianizzata perché in dialetto la fagiola si chiama suriaca da faba suriaca eccetera semplicemente in latino poi cade faba e esce suriaca ecco quindi quello che io mi pongo allora la televisione davvero ha dalla Val d'Aosta alla Sicilia cancellato quello che è il dialetto il dialetto è delle nuove generazioni e così come penso ma questa è una domanda che mi faccio a più grande che sono esperti penso che i mass media soprattutto anche oggi i social cambieranno ma ti dico io non mi scandalizzo cambieranno anche il modo di parlare in italiano il dialetto è vero ha resistito a tutte le possibilità poi ovvio che quando in alto dobbiamo fare l'unità d'Italia Manzoni si deve un po' bello grosso così per unificare una lingua e non c'è mai riuscito insomma voglio dire oggi penso che come si spose sia uno dei secondo me miglior romanzo nella vita scrittoria in Italia però oggettivamente chi scriverebbe più? come Manzoni ognuno di noi cioè i professori lo insegnano a scuola ma nessuno scriverebbe più come Manzoni per cui non mi scandalizza neanche se l'italiano viene tra virgolette corrotto sumi come fai a scrivere se è tenuto un incontro al vertice in prefettura sumi è più semplice amen e lo fai e guarda la faccia quindi è quello che non riesco a capire nonostante l'interesse al vernicolare nonostante l'interesse al dialetto stiamo qui a parlare come stiamo parlando di un come dire di un l'acerto di una di una cosa passata di una cosa archeologica ecco nonostante da qualche anno nel nostro paese questa spinta c'è stata però io vedo che i giovani non hanno una loro parla c'è mio figlio che aveva cominciato a parlare il cremonese dal nonno e il milanese dalla nonna e poi adesso può essere stupato non parla più dice solo la pena quella cosina ma ancora cremona io sento che ad esempio entrano molto in funzione i milanesi perché la gente va all'università a Milano per non parlare di parlo come anche giù da noi in Calabria ci sono due grandi università che hanno una è Cosenza e l'altra è Messina allora cosa succede? che nel nord della Calabria ormai si parla tutti con il Cosentino con le inflessioni di Cosentino per farla breve un po' come quella spirata dei Putresi e si parla così mentre invece Pizzocarlo e Lamentino che erano lo spartiaccio dell'Isaglossa si parla in siciliano in inflessione siciliana perché da sud della Calabria si va a Messina e quindi porti in casa delle parlate cioè delle impressioni che quando io ero giovane non c'era non a caso non pensai che gli studiossi di dialetto soprattutto quelli tedeschi andavano a studiare le chiamontese tra gli emigranti in Argentina perché si portavano dietro un bagaglio di un culturale di dialetto che non c'è più per cui ti chiedo ti chiedo ma perché ci siamo omologati ecco perché poi la televisione perché ha omologato tutto però anche però che c'è gente come voi che raccoglie queste cose ma non solo voi anche nell'asso del pop c'è sicuro lo sapienissimo hai fatto toponomastica di tutti i paesi della Barsa cioè quindi voglio dire perché poi si è bloccato cioè che cosa manca la scendilla culturale per fare che il dialetto rientri nella parlata comune ecco cioè la mia domanda che mi sono sempre posa va bene che nel 54 esce la televisione e nasce la televisione però è anche vero poi che questa spinta adesso di dialetto c'è stata come se c'è stata eppure non siamo riusciti a parlare è una risposta difficile secondo me da dare perché il dialetto probabilmente ha un suo lessico che è nato insieme alle necessità dei parlanti di una volta e adesso questa necessità non ci sono più si deve comunicare con la persona che viene da Messina piuttosto che con quella che viene da Trieste e bisogna utilizzare la lingua nazionale poi poi siccome la televisione come dici tu la televisione ci ha un po' tutti omologati non solo ma le infiltrazioni televisive ci sono anche nel dialetto io mi fermo ogni tanto vado volentieri al mercato perché ci sono le persone che vengono dai paesi che parlano di loro ancora nel dialetto e mi piace tantissimo urlano anche termini televisivi nel dialetto quindi questa contaminazione è già arrivata anche al dialetto e sono tutti tentativi ma l'hai già detto tu intanto che che mi ponevi la domanda sono tutti tentativi di cercare di stare al passo con il modo di comunicazione che si usano oggi e che quindi devono utilizzare linguaggi adatti al tipo di comunicazione che si vogliono dare secondo me poi ci saranno sicuramente moltissimi altri motivi certo che il dialetto rimane una lingua locale molto distretta rispetto all'italiano o all'inglese oggi e viene penalizzato ovviamente quindi diventa un'operazione archeologica di salvataggio degli ultimi degli ultimi dialettofoni che bisogna assolutamente fermare per avere almeno questa documentazione perché poi sparisce se noi perché sai meglio di me ci sono altre regioni il Veneto per esempio che anche una tradizione letteraria pensiamo soltanto a Colgordone e le sue commedie quindi ha una tradizione ma ce l'abbiamo anche noi il milanese ce l'ha tantissimo ma il cremonese pure ce l'ha magari non si spingono così indietro nel tempo in alcuni casi con opere così vaste però ci sono nella bassa padana centrale soprattutto i nostri paesi ma non soltanto quella della provincia di Cremona quella della provincia di Modiglione quella della provincia di Brescia magari già un po' meno è molto flebile questa volontà questo desiderio di fermare di salvare questi ultimi lacerti come dici tu del dialetto se noi li avessimo potremmo capire che il gradiente di modificazione da un paese all'altro sembra una cosa incredibile si sente si sente gli abitanti di un paese forse adesso un po' meno ma un tempo potevano individuare il paese dal quale veniva il loro interlocutore perché aveva un dialetto leggerissimamente diverso ma diverso se posso interrompere credo che ancora questo è veramente è molto sviluppato sull'asta del Po Cremona Bonemers Sagno Lombardo San Daniele Torricello Casal Maggiore e poi si andava guarda e fanno già c'è già Bonemers si comincia a vedere che c'è una variante che poi lega piano piano il famoso rego nasco ma una cosa l'ultima cosa che voglio dire che adesso l'ha tirata in ballo furio quindi mi sembra giusto dirla è una cosa che va studiata secondo me e poi finiamo penso abbiamo già sforato se voi avete in mente la provincia di Cremona saprete che il castellonese è citato prima mia mamma ma che appartiene già più alla parlata cremonese che neanche quella che è è vero che loro dicono Milà e non Milan perché anche loro sono gli intermedi però poi tutto il resto è molto cremonese Fiesco Trigolo Genivolta parlano un dialetto di derivazione cremonese il paese vicino Curex o vicino Comuniano Ticengo Romanengo Salvirola Izzano Madignano parlano già di cremasco la centuriazione dell'Ager Bergomensis arrivava esattamente lì e da lì in giù cominciava l'Ager Cremonensis sarà un caso Allora le radici sono antichissime hanno più di 2000 anni e lì si sono stabilizzate 2000 anni fa perché sono molto più antiche ma lì si sono stabilizzate e consolidate bisogna studiarne queste cose se non abbiamo questi strumenti che devono moltiplicarsi sul territorio per poter fare queste comparazioni eccetera non riusciremo mai a studiarle ci abbiamo qualche libretto se qualcuno lo vuole ecco io vi ringrazio perché questo dibattito poi sta evolvendo in un'unione sociolinguistica e quindi stiamo andando avanti anche in questo nelle tematiche da studiare sarebbe bello proseguire magari con giornate a tema per adesso proviamo a portare avanti questi progetti di volta in volta la prossima volta ci troveremo per Dante a dicembre intanto ringrazio sempre la DAPA i Bonetti per Antonio Bonetti e Antonio Grazierosso il Pulvio Stumpo il nostro Valerio Ferrari la mamma e anche l'assessore Onetta per la loro disponibilità proprio di sabato sono andato a questa disponibilità quindi li ringraziamo grazie